A Chieti è tornato nella sua collocazione naturale storica Corso Maruccino, sindaco, il mercato prima delle festività natalizie, un grande risultato ottenuto dalla sua amministrazione? È un grande risultato che si evince e scaturisce da due fattori. Uno, una diminuzione della virulenza del virus e quindi una maggiore fiducia e soprattutto l'aderenza e la collaborazione dei mercatari a tutte le misure di sicurezza e quindi questa sinergia di lavoro tra l'amministrazione e loro dà questi frutti. L'assessore Manuel Pantalone stiamo da questa mattina passeggiando per il corso e vediamo una situazione di tutta tranquillità e di conseguenza io faccio un applauso ai mercatari e ovviamente all'assessore che sta svolgendo in maniera ottimale il suo compito. Abbiamo dato questo impulso nelle riunioni con la categoria affinché venissero attuate le disposizioni del DPCM e i protocolli regionali. Come diceva bene il nostro sindaco abbiamo voluto fortemente riportare nella settimana che precede il Natale il mercato del venerdì sul Corso Maruccino ma l'abbiamo voluto fare in assoluta sicurezza ma questo rientra anche in un programma di valorizzazione dei mercati cittadini perché abbiamo in mente di arrivare ad una brandizzazione del mercato nonché ad una uniformità dei banchi per far sì che il commercio sul suolo pubblico diventi complementare al commercio al dettaglio e che questo venga valorizzato come mai era stato fatto in precedenza. Questa mattina avete anche potuto toccare con mano la soddisfazione degli ambulanti e anche della cittadinanza? Assolutamente, è un connubio perfetto perché i cittadini stanno facendo le loro compere nel mercato del venerdì in assoluta sicurezza e chiaramente per i mercatari l'opportunità di potersi rivolgere alla cittadinanza nel Corso Cittadino in una giornata, in un momento così importante pur nella difficoltà appunto del momento che tutti stiamo vivendo. Grazie a tutti.